Musica Amici, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di sua eccellenza il programma sportivo che si occupa del campionato di eccellenza del girone A e del girone B laziale. Questa sera qui con noi due grandissimi ospiti il difensore del Cassino Paolo Mercurio, buonasera Paolo benvenuto e il portierone Luca della Pietra, buonasera Luca anche vice capitano e capitano del Cassino Calcio allora Paolo prima di iniziare naturalmente a parlare di questa partita che c'è stata ieri naturalmente di questo campionato due parole su questa coppa di eccellenza vinta dalla squadra che voi avete già affrontato ieri l'Unipo Mezzia secondo te ecco come hai visto questa partita? Beh l'ho seguita ovviamente perché interessava due squadre del nostro girone tra l'altro ci abbiamo giocato ieri come dicevi tu e quindi l'ho seguita con attenzione ho visto una partita giocata bene da entrambe le squadre nonostante il risultato che sembrerebbe pesante a sfavore del Litri invece Litri ha giocato l'Unipo Mezzia ha sfruttato gli episodi a suo favore è riuscito a vincere con merito comunque una partita bella Luca diceva l'allenatore del Litri praticamente loro meno concentrati forse l'Unipo Mezzia più concentrata visto che era una partita secca o dentro o fuori no? Sì detto bene l'allenatore Litri ha sbagliato anche un rigore non è stata capace di sfruttare tutte le occasioni avute l'Unipo Mezzia è stata più decisa nelle occasioni avute durante la partita e ha vinto meritatamente ecco per restare ancora qualche minuto su questo tema sia Litri che l'Unipo Mezzia l'avete affrontato normalmente nel girone di andata e soprattutto nel giro di ritorno l'Unipo Mezzia che cosa anche Litri praticamente diciamo che cosa è mancato a queste due squadre perché secondo me la classifica che hanno non rispecchia magari il valore che poi hanno in campo sia di uomini ma anche per quello che riescono a fare di gioco ma forse un po' di fortuna perché comunque Litri vedendo i giocatori non penso che ci manca niente sono tutti ottimi giocatori contro di noi hanno creato molte occasioni quindi un po' di fortuna direi anche per te Paolo un po' di fortuna oppure ci manca qualche cos'altro? sicuramente qualcosa non ha funzionato soprattutto per l'Unipo Mezzia più che per Litri perché è la partita per essere una delle favorite del campionato poi qualcosa è andato storto sinceramente non so perché non stando dentro non riesco a capire i motivi però con la squadra che avevano all'inizio con i giocatori, allenatore insomma sicuramente si aspettavano di fare un campionato diverso e adesso si trovano lì giù per lottare per la salvezza senti per quanto riguarda il discorso di andare avanti in questo torneo perché adesso magari hanno vinto la Coppa di Eccellenza a Laziale adesso si faranno questi tornei a tre come avete fatto voi l'anno scorso e poi si andrà avanti come la vedi questa Unipo Mezzia? io credo che intanto giochera contro la Sardegna mi sembra contro la prima in classifica della Sardegna che è un'ottima squadra Tortoli mi sembra quindi comunque sarà un confronto difficile però ho visto ieri una squadra concentrata con buoni giocatori che sicuramente se la potrà giocare per andare avanti bene allora con l'aiuto della regia andiamo a vedere insieme i risultati e la relativa classifica del girone A poi vediamo quelli del girone B e gli commenteremo insieme ai nostri ospiti allora come possiamo vedere naturalmente da questi risultati l'Atletico continua ancora con questo suo da fare praticamente questo campionato che ha già vinto più o meno come voi voglio dire un punto o due punti praticamente sono distanti praticamente il Cassino e l'Atletico quattro gol rifilati al Tolfa e poi naturalmente questa Ladispoli che va a vincere a Boreale a Boreale insomma è un'ottima squadra oserei dire non è una squadra che voglio dire è così però Ladispoli ecco forse è l'unica che riesce a reggere questo confronto contro è vero il passo di questo squadrone che secondo me come il Cassino non ha nulla a che vedere con questo campionato andiamo a vedere anche la classifica insieme naturalmente per renderci conto di quello che sta succedendo infatti vediamo 53 punti l'Atletico Ladispoli 43 poi c'è quest'altra squadra anche costruita per vincerlo questo campionato con degli ottimi elementi la Valle del Tevere però è ferma 39 punti Acquapendente chiude con 13 punti e soprattutto ecco un po' la squadra che diciamo sta deludendo un po' in questo campionato è la strea Paolo vero? Sì anche loro hanno partito per un campionato sicuramente diverso si trovano credo ormai troppo lontani sia dal primo posto vabbè assolutamente anche dal secondo posto non credo che riusciranno a rientrare nella lotta per i playoff Luca che cosa dice questa classifica? secondo me è un campionato chiuso questo l'Atletico lo stravincerà ha deluso un po' il Valle del Tevere che conoscendo gli uomini poteva fare meglio poteva sicuramente dare come dicevamo prima anche io mi aspettavo come diceva prima Paolo qualcosa anche da parte della strea una squadra che ha militato sempre il campionato di serie D ha degli uomini importanti vuol dire non è che sono dei giocatori magari che hanno fatto sempre l'eccellenza ma giocatori che hanno fatto categorie superiori bene andiamo a vedere ancora il girone B con la classifica e i relativi risultati ecco questi sono i risultati di ieri c'è questo Arce che continua in questo momento diciamo buono che ha battuto il Morolo per 2 a 0 c'è anche il pareggio del Roccasecca c'è questo pareggio del Gaeta che era in svantaggio ieri se non sbaglio contro il San Cesario e poi si vede un po' male questo pareggio con l'Unipo Mezzia questo quarto pareggio del Cassino tanto andiamo a vedere anche la classifica anche qui penso ragazzi che i giochi sono quasi fatti 51 e 42 voglio dire a meno che non vi suicidate non succeda qualcosa di strano voglio dire lo portate a casa questo campionato qui anche questa Aprilia che sembrava insieme con l'Artena che voleva magari ecco andare un po' voleva fare qualcosa di particolare però a quel punto non è riuscita ad avere il passo vostro il passo del Colleferro Paolo sì però non è per scaramanzia ma credo che non siano chiusi ancora del tutto i giochi perché come dall'altra parte sono chiusi questa parte non sono chiusi ma perché qua secondo me le seconde le terze del nostro girone sono migliori rispetto alle seconde dell'altro girone ecco proprio questa è la domanda che vi volevo fare c'è differenza tra il girone A e il girone B partiamo da Luca secondo me sì il girone B molto più tosto tecnico forse no diciamo cioè pure questi giochi con l'ultimo in classifica la devi sudare la partita che comunque soprattutto chi affronta il Cassino si mette tutto nella metà campo ed è difficile trovare spazio sì perché va a affrontare la squadra prima in classifica con 9-10 punti di stacco dalla seconda insomma ecco vengono come è successo ieri no? insomma come ci raccontavi praticamente dietro le quinte pali traverse la palla non è entrata e poi è finita 1-1 Paolo sì è stata una partita l'ennesima perché quattro pareggi di fila di cui credo in tutte e quattro le partite avremmo meritato di vincere credo abbiamo preso 4-5 pali in quattro partite quindi un po' la fortuna non ci non ci assiste in questo periodo però sul periodo del campionato che capitano è sicuramente finirà e torneremo a vincere perché siamo i favoriti lo sappiamo e dobbiamo confermare questa cosa fino alla fine del campionato Luca qual è la squadra che secondo te ha deluso un po' in questo girone B? l'Unipo Mezzia era partita per vincere ha speso molti soldi e poteva fare sicuramente meglio il Colleferro è una squadra molto giovane però diciamo che sta lì no? il Colleferro ha un allenatore che fa giocare bene i ragazzi ci hanno molto c'è ci hanno qualità ci hanno soltanto che al Colleferro secondo me manca chi concretizza le azioni manca proprio un vero bombe manca una riete esatto il Cassino ce n'ha tre voglio dire esperti no? esperti vabbè lì davanti è veramente qualcosa di particolare tra Giglio tra Macciocca tra Perrotti voglio dire è un attacco che imiterebbero squadre di serie D Paolo no? perché questi sempre con la categoria hanno fatto Giglio ha fatto mi sembra la serie D con te ad Isola Liri no? sì Isola Liri con lui alla Maccarese insomma voglio dire un attaccante molto importante un attaccante che riesce a segnare tantissimi gol come dall'altra parte nel girone A c'è quel tornatore voglio dire gli ha sempre fatti il gol in qualsiasi categoria ma quest'anno veramente sta andando veramente alla grande un attaccante di quello ecco quello che diceva prima Luca Paolo forse manca al Colleferro proprio un attaccante una punta di aria quella che arriva il pallone lo deve mettere solo dentro ma poi alla fine è quello che fa la differenza perché se una squadra è organizzata bene c'è un bomber come tornatore o come Giglio è normale che vinci le partite perché magari anche la partita 0-0 1-1 così te la risolvono con una giocata o con un gol e quindi è ovvio che aiutano a vincere i campionati però sono anche di un altro parere ragazzi che praticamente sì c'è la persona che fa il gol no? la persona il terminale diciamo così si usa però ci deve essere sempre un gioco dietro c'è un gioco che il Cassino ce l'ha un gioco che le altre squadre anche il Colleferro soprattutto con tantissimi giovani si lavora molto sulle fasce voglio dire anche con Santilli nel Cassino insomma un giocatore che spinge moltissimo diciamo che è un difensore però piace molto svariare e andare avanti e poi avete un allenatore che secondo me per questa categoria non c'entra nulla come Ezio Castellucci ecco magari serve proprio quel po' di fortuna per riuscire a mettere quelle marce alte per magari vincere queste partite e per stravincere questo campionato sì è così perché comunque hai detto bene tu quando c'è un'organizzazione di gioco come quella che ci dà il mister dobbiamo fare poco noi nel senso dobbiamo soltanto stare a sentire i suoi consigli mettere in pratica quello che ci dice durante la settimana e poi con la qualità che abbiamo viene naturale fare bene perché il Cassino vogliamo dirlo ma lo sanno tutti quanti voglio dire ha qualità a centro campo ha qualità dietro con voi ha qualità in avanti ha un portiere espertissimo voglio dire non gli manca nulla ecco manca proprio questa fortuna perché il gol prima o poi arriva però poi primo tiro in porta che fanno gli avversari la falla dentro e poi magari invece di portare a casa tre punti se ne porta soltanto uno sì momentaneamente dai sono un momento quindi passerà sicuramente un'altra cosa vi volevo chiedere secondo voi questo questo girone A e questo girone B naturalmente dove ci sono nel girone A naturalmente ci sono squadre romane ma nel girone B dove merita il Cassino ci sono altre squadre che secondo voi potevano dare qualcosa in più e non l'hanno dato e la stessa cosa nel girone A perché voglio dire abbiamo detto prima della strea ma anche altre squadre che erano state costruite come Valle del Tevere per esempio l'Unifomezia insomma Valle del Tevere all'inizio è partita con dei giocatori molto importanti e poi si sono fermate secondo voi è sempre mancanza di un bomber per quello che la mette dentro come si dice oppure è successo qualche altra cosa? nel girone B c'è anche l'esempio dell'Aprilia sì che con la squadra che ha poteva ambire a posizioni superiori però lì ci sono state questioni extracalcistiche che fino alla fine non sapevano che categoria dovevano fare anche se ora sono in netta ripresa diciamo che hanno iniziato un po' in ritardo il campionato anche perché l'Aprilia Paolo ha dei passati anche come il Cassino voglio dire in C2 c'è una squadra molto importante una squadra che ha sempre dettato un certo tipo di calcio poi c'è stata quella parentesi che c'è stata molti anni fa però poi si è ripresa ed è ripartita sì ma io sono sicuro che l'Aprilia se la giocherà fino alla fine per arrivare almeno seconda perché quando l'abbiamo affrontata da noi ho visto la miglior squadra dopo il Cassino ovviamente secondo me del Girone hanno molte possibilità di arrivare ai playoff e di comunque raggiungere l'obiettivo della Serie D bene allora tornando alla partita di ieri che si è giocata appunto a Pomezzi andiamo a sentire le parole dell'allenatore appunto dell'Unico Pomezzi a Punzo e di Ezio Castellucci è stata una bella partita secondo me giocata bene da tutte e due le squadre e noi probabilmente con le prestazioni ultime stiamo dimostrando di valere qualcosina in più della classifica che abbiamo in questo momento ma noi dobbiamo continuare a credere nelle nostre prestazioni sicuramente la partita di mercoledì ci ha dato una ventata di come posso dire autostima importante e oggi ce la siamo giocata secondo me alla pari con una grande squadra che vincerà secondo me molto meritatamente il suo campionato io credo che questa sia una piazza che meriti altre categorie anche per il seguito di pubblico che ha e credo che quest'anno hanno tutte le componenti per potercela fare ho visto i risultati credo addirittura abbiano allungato un punto se non mantenuto gli stessi sulle seconde questi sono segnali importanti quindi noi siamo contenti del nostro punto e faccio un grande in bocca al lupo al Cassino per il proseguo del campionato della forza del Pomezia la conoscevamo una squadra che è stata costruita per ben altro hanno vinto la Coppa Italia mi sono anche congratulato con loro la Coppa Italia regionale e credo che comunque oggi il Cassino abbiamo disputato una delle migliori gare della stagione abbiamo disputato una gran gara sotto ogni aspetto tecnico spessore agonistico abbiamo avuto solo il torto forse di non chiudere la gara come in queste ultime partite ci è mancato però in queste ultime partite meritavamo ampiamente la vittoria come la meritavamo anche oggi e credo che dobbiamo stare a camminare a testa alta e tutti quanti anche i nostri tifosi devono essere soddisfatti e orgogliosi della propria squadra perché la stiamo onorando veramente stiamo facendo bene Paolo Castellucci ha detto che forse ieri non forse è stata la più bella partita dell'intero campionato ha detto una delle migliori e sono d'accordo con lui perché abbiamo giocato veramente bene contro una squadra forte molto forte quindi non era facile sul campo loro fare una prestazione del genere poi come ho detto prima come ha detto anche Luca un pochino di sfortuna due pali ci hanno negato la vittoria però la prestazione non si può discutere bene allora siamo quasi in chiusura andiamo a vedere insieme il prossimo turno del girone A e del girone B vediamo quali saranno l'incrocio appunto di domenica prossima e ci salta subito all'occhio Paolo questo Ladispoli Civitavecchia no? Bella partita una bella partita che sicuramente dirà molte cose il secondo posto è molto importante e anche Tolfa Boreale insomma non è male e questo atletico che andrà a far visita penso a questa oramai sulla carta dovrebbe essere una passeggiata però il calcio non dice questo il calcio magari ecco può dire anche che questa partita per un po' di fortuna per altre situazioni può andare in un altro verso però sono tantissimi punti magari che ha di vantaggio l'atletico sulla seconda e non ci sono sicuramente problemi andiamo a vedere anche il girone il girone B dove questo Cassino va a San Cesario una partita sulla carta anche questa facile per il Cassino però voglio dire non tanto non tanto facile e anche questo Aprilia Arce questo Arce che in due partite praticamente ha confezionato quattro punti insomma si sta muovendo anche la classifica e Artena che va ad Autace insomma un po' di incontri un po' particolari che possono dire naturalmente possono far muovere la classifica in una certa maniera sì secondo me la partita più bella è proprio Artena-Audace perché l'Audace è una squadra che gioca molto bene l'Artena è lì al secondo posto cerca di raggiungerci e quindi sarà uno scontro molto bello e noi invece col San Cesario sicuramente non sottovaluteremo l'avversario che tra l'altro è in ripresa rispetto all'andata è molto in ripresa e quindi non ci possiamo permettere di sottovalutare ieri in vantaggio se non sbaglio a Gaeta se non sbaglio in casa contro il Gaeta vinceva 1-0 e poi è stato raggiunto Luca secondo te allora questo incontro di domenica prossima con questo San Cesario? da non sottovalutare ma daremo tutto per tornare alla vittoria eh sì perché manca questa vittoria manca da 4 a 4 domeniche poi si gioca in casa voglio dire i tifosi vogliono vedere vogliono avere soprattutto questi tre punti ma anche per una futura tranquillità avere altri tre punti in classifica voglio dire significa muoverla e significa togliere una giornata da questo campionato esatto sì è proprio così ormai pensiamo così è un punto la rovescia più si diminuiscono le giornate i punti restano sempre quelli di vantaggio ovviamente tutto a nostro favore bene allora io vorrei salutare i nostri ospiti di questa sera di sua eccellenza Paolo Mercurio capitano del Cassino e Luca della Pietra grazie a voi per essere stati qui con noi questa sera e noi come al solito ci vediamo sempre lunedì prossimo sempre alla stessa ora per un'altra puntata di sua eccellenza buonanotte grazie a tutti grazie a tutti